Tutto pronto per la 23esima edizione della Valle delle Orchidee in programma domani a Sassano. Le previsioni meteo degli ultimi giorni fortunatamente stanno invertendo completamente la rotta con una bella giornata di sole che farà da cornice al tanto atteso ritorno della manifestazione nella splendida valle naturalistica di Sassano. La manifestazione riparte dopo due anni di ferma a causa dell'emergenza pandemica e lo fa in grande stile, ma soprattutto lo fa in modo tale da garantire un turismo accessibile a tutti affinché ciascuno possa beneficiare e godere delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche. Con la partecipazione e il diretto coinvolgimento dell'Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle antiche coltivazioni di Sassano, domani si celebrerà quindi la Festa della Natura, una giornata dedicata alla celebrazione della natura con attività gratuite, sportive e gastronomiche che prenderanno il via dalle ore 9. Sono in programma due concorsi, uno di disegno alla ricerca della valle incantata e uno di fotografia, le bellezze della natura a Sassano e anche uno spettacolo di musica popolare.